Noi dobbiamo fare sul serio una riorganizzazione del sistema dell'emergenza e urgenza, lo faremo, nell'interesse dei cittadini, non delle forze politiche, garantendo da un lato un ulteriore miglioramento di tutti gli interventi tempo dipendenti, mettendo il cittadino in condizioni di essere collocato nel miglior setting assistenziale sanitario possibile, nel minor tempo possibile e questo è un nostro obiettivo e lo realizzeremo e dobbiamo anche occuparci di tutta quella parte di prestazioni che si svolgono nei pronti soccorsi, quasi il 70% di esse, che codici bianchi e codici verdi sicuramente non necessitano di interventi tempo dipendenti o non rendono le persone a rischio vita, ma che devono essere prese in considerazione come urgenti ed essere possibilmente intercettati sul territorio. Per questo noi proporremo una riorganizzazione che so che interessa anche molte regioni in Italia e è chiaro che dovremo fare con le risorse che abbiamo ma con obiettivi ancora più performanti di quelli attuali.